e ciao a tutti i miei discepoli ben ritrovati in laboratorio torniamo a parlare di bonsai, di pre bonsai, torniamo a parlare con calma torniamo a parlare delle sempreverdi, delle mediterranee nell'inverno, di cosa fare in inverno con le mediterranee perché iniziano già a scrivermi in tanti le temperature sono cambiate cosa devo fare e quindi oggi come sempre cerchiamo di eliminare tutte quelle dicerie cerchiamo di prendere soltanto il buono per far sì di tirar fuori un bonsai sempre più bello ogni anno piuttosto che star lì a vagheggiare su mille teorie inutili allora torniamo subito, anzi partiamo subito col discorso per quanto riguarda l'olivastro che ho impostato come vedete un'impostazione semicascata ho fatto il video, c'è un video su claudiobonsai.com, video pagamento 49,90 e ah ovviamente prima di iniziare vi ricordo anche che c'è la promozione questo mese 10% black friday, friday, frido, quindi chi mi sta scrivendo andiamo quest'anno, fai black friday, sì, ok 10% su tutto per il mese di novembre quindi se siete lì che dovete comprare, fatelo adesso perché a dicembre non ci sarà, ok? e poi non dite che sono cattivo andiamo a vedere la pianta, vediamo come l'ho impostata ovviamente chi volesse tante informazioni in più può andare a vedersi il video così impara bene dove mettere i rami, dove spiego bene tutto come possiamo vedere c'è questo ramo che scende, ok? anche questo, però non è sullo stesso livello ovviamente abbiamo anche un altro ramo di profondità spero che si vede questo è il fronte e la pianta sta bene, ok? mi raccomando e sta già buttando fuori nuova vegetazione che per carità adesso arriva l'inverno l'autunno e l'inverno quindi non è detto che sia in grado di poi di maturare bene e tenerla però ovviamente cerchiamo sempre di evitare che la pianta scarti anche la nuova vegetazione, ok? quindi bene o male il verde viene fuori vuol dire che la pianta sta bene vuol dire che è concimata bene ok? perché se in autunno sempre il verde butta fuori vuol dire che sta molto bene e soprattutto vuol dire che abbiamo già tutte le ripartenze per il prossimo anno quindi tanta tanta roba sono contento perché già il prossimo anno secondo me arriveremo già a un livello bello bello alto ok? quindi decisamente ottima impostazione e per chi mi stava dicendo ah ma no ma io io Claudio Bonfai l'avrei io l'avrei impostata in un altro modo però ma ovvio è logico è ovvio come me ragazzi non c'è nessuno quindi non avreste mai potuto fare un qualcosa del genere ok? a parte le stronzate anche per quelli che mi dicono no però l'apice l'avrei messo in un ragazzi ma l'apice non c'è ancora non c'è quindi dobbiamo fare vegetare la pianta fare i rami e dopo impostarli di nuovo cioè non c'è c'è soltanto un apice un ramo che viene su da qui e poi il resto si dovrà fare ok? quindi attenzione evitiamo di andare oltre quando ancora non abbiamo la ciccia sotto le mani cioè prima di tutto ragazzi ci vogliono le piante quindi è utile che stai lì a fantasticare sul come fare le cose se non c'è manco la pianta sotto secondo una volta che avete la pianta la distroggete quindi non rompete i micoglioni ok? ed è detto questo torniamo sulla questione concimazione visto che adesso ragazzi le temperature sono abbassate iniziamo con la concimazione autunnale importantissima per andare a legnificare i butti per andare a solidificare per andare a tenere tutto quello che abbiamo creato per quanto riguarda la stagione vegetativa perché adesso non è assolutamente ammissibile perdere rami a gennaio dicembre e gennaio e febbraio perché quei rami che abbiamo fatto quest'anno ovviamente li accorciamo li potiamo però devono rimanere perché se no andiamo avanti torniamo indietro quindi per quanto riguarda anche la potatura molti l'anno scorso hanno fatto delle potature che non c'entravano un cazzo cioè allora o fate delle potature troppo troppo lunghe terza gemma con i discorsi inutili e quindi la pianta non è stimolata a cacciarla dietro e quindi vi perdete con l'occasione alla ripartenza di produrre proprio vegetazione dentro che ci serve per andare a completare il disegno oppure tagliate troppo e fate saltare i rami primari cioè allora che cazzo abbiamo costruito a fare i rami se poi li fate saltare di netto oppure vi salta fuori salta sto ramo perché bisogna vedere meglio la profondità stack e via un ramo intero per carità un olivastro 9 volte su 10 ve lo rifà il ramo però sti cazzi avete perso un anno per costruire posizionate ok cioè mettete un po' di filo posizionate un tirantino poi l'anno dopo se il ramo sta bene tutto si può già iniziare a farlo cacciare da dietro se è abbastanza spesso ok quindi potature anche sui rami fini lo dico sempre ragazzi evitate evitate perché se no la pianta discarta soprattutto sulle mediterranee fare potature aggressive in questo periodo la stronzata è più grossa che uno può fare perché già in autunno bene o male a fine settembre arriva sempre la tignola a rompere i coglioni fa saltare metà dalla vegetazione come niente inizia a mangiare foglie tutta randa un casino dalla madonna perché adesso usate i prodotti preventivi total forza non si avvicina a nessuno però già questo può essere un problema che poi vi riporta nella condizione di avere dei rami che non sono abbastanza tosti e quindi si torna un po' indietro perché magari la pianta arriva a scartare quei rami che perdono a foglie ovviamente magari un pochettino tirano indietro se in più andate giù con le forbici andare a segare tutto quello che è stato costruito allora sti cazzi allora è inutile star lì a costruire bombare le piante farle spingere per poi fare rami poi li fate saltare ma che cazzo che potature sono ok quindi prima cosa da fare mamma mia è posizionare i rami primari ok perché se no se non sono impostati i primari è inutile andare lì già a fare discorsi sulle potature discorso io la voglio più piena più vuota ma se non hai fatto ancora l'impostazione primaria che cazzo vai a mettere mano ok quindi il consiglio che vi do di non prendere informazioni in giro sui social di gente che è fantastica e inizia a tagliare così guardando le stelle no mi casco il microfono tornando a noi per quanto riguarda l'inverno visto che stiamo parlando di mediterranee molti già iniziano a decifrare le informazioni al contrario quindi se le temperature scendono bisogna metterle a riparo ma attenzione quando mettere a riparo una sempreverde magari una una mediterranea con un olivaccio una filirea un leccio ah primo come vedete ragazzi io non faccio tutto non faccio niente di tutto ciò quindi se io ho una pianta che che sta bene di fuori anche se arriva al freddo io la lascio fuori ma dove cazzo abitate in Alaska che avete paura di tutte queste ghiacciate di queste temperature rigide cioè le piante non sono come gli esseri umani che hanno bisogno del cappotto per forza o di mettersi in camera sotto le coperte del letto per riscaldare cioè le piante ragazzi sono piante cioè poi piante rustiche piante selvatiche come un olivastro piuttosto che un'olea europea fa tutta la differenza del mondo cioè un olivo che viene coltivato da frutto un'olea europea che fa i frutti alla prima scriccata magari vi si secca mezza pianta e invece una pianta come questa che io vi dico avevo un olivastro simile a questo se non uguale e l'ho tenuto un inverno a sotto meno 10 meno 12 ok ha fatto 10 giorni di meno 10 meno 12 il panetto radicale cioè la terra era diventato un blocco di cemento era diventato ok soprattutto ghiacciato tutto mi ero detto questa secca questa muore la mediterranea non ha fatto una piga cioè non ha neanche rovinato le foglie cioè non ha fatto niente non ha fatto una piga perché perché è tutto relativo cioè ci sono piante che cioè la nostra percezione del freddo non è la stessa percezione che c'è una pianta un altro discorso per quanto riguarda il leccio tutti dicono il mediterraneo ma il leccio ragazzi vive anche nelle colline cioè vive nel bosco la temperatura va molto sotto rispetto alle nostre posizioni secondo me poi dipende uno del cazzo abita naturalmente però attenzione per quanto riguarda le gelate allora ragazzi se le gelate arrivano non c'è nessun problema se la pianta è già stasi vegetativa tranquilli non è nulla di grave il problema salta fuori quando le temperature iniziano a fare l'altalena ok su giù su giù allora la pianta inizia a muovere dentro i liquidi inizia a muovere la linfa inizia a buttare fuori vegetazione fresca e lì se arriva una bella gelata fatta a bere scusate c'è rischio che tanta vegetazione si va a perdere quindi si va proprio a bruciare ok quindi vegetazione che è fresca quando la pianta riparte soprattutto quando i liquidi iniziano a girare nella pianta molto spesso è un problema se arriva qualche ghiacciata verso marzo fine febbraio marzo quindi attenzione quello secondo me è il periodo nel quale bisogna stare un pochettino attenti però come vedete io non ho una sera fredda io non ho una sera calda io non ho la bussola per mettere la pianta nord-est nord-ovest allora se volete che la pianta stia un pochettino di più al caldo la mettete vicino al muro di casa perché il bottone trattiene più calore quindi avete già la temperatura più o meno che sia un grado più in alto uno o due gradi più alta ok ultima cosa prima di chiudere ragazzi non andate a tirar fuori delle serre fredde tutte chiuse che fanno una condensa della madonna fate sempre dei buchi per far sì che ci sia un po' di ricircolo d'aria almeno apritela anche ogni tanto per far girare un po' l'aria dentro perché se no vi si spappola vi si lessa la pianta al primo caldo che arriva cioè vi si lessa proprio attenzione ok non andate a svernare troppo presto le piante perché se no a un certo punto andate veramente a farle partire anche troppo presto e poi dopo anche per farle un pochettino adattare al clima che c'è fuori poi diventa un problema anche lì ok e soprattutto attenzione fate i buchi fate circolare l'aria perché se no arrivano fuori tanti di quei funghi potete dire addio alla vostra vegetazione perché i funghi ve la mangiano ok detto questo un saluto a tutti ci vediamo al prossimo video ripeto questo mese offerta black friday 10% su tutto ok lo faccio per voi perché sono troppo felice sono contento e anche per premiare i miei clienti che stanno comprando e quindi continueranno a comprare così ok ciao a tutti ci vediamo al prossimo video state bene claudiobonsai.com lasciate un mi piace condividete con i vostri amici bonsaiisti attivate la campanella iscrivetevi e abbonatevi al servizio masterclass così tutti i mesi avete la diretta di un'ora e mezza con me in video dove posso spiegarvi tante cose mi chiedete quello che volete mi fate vedere le piante fate quel cazzo che volete posso garantirvi che ne vale la pena ok per andare a schiarirci da tanti dubbi ok ragazzi perché se no continuate a fare tante cose che bomba che vi portano poi in un casino esagerato ciao a tutti ci vediamo nel prossimo video grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille